Oggi ricordiamo il battesimo del Signore Gesù ed è l'inizio di una vita, il nostro battesimo come il nostro inizio di vita in Cristo. Sia questo il punto di partenza per questo nuovo anno appena iniziato, ce ne portiamo alle spalle di complicati, di anni ecco, con tante cose inaspettate, magari poco serene. Guardiamo al futuro con gioia, con questo battesimo che ci introduce in una novità di vita. Quello che conta sarà sempre al nostro fianco se avremo Cristo e proprio con le parole più o meno della colletta di oggi, della liturgia, ecco, chiediamo al Signore di essere obbedienti all'ascolto della parola per essere veramente chiamati figli di Dio. Pace e bene a tutti, un grande abbraccio di serenità, di pace e di gioia che possa essere il segno del vostro 2022. Grazie ancora di cuore a tutti e speriamo di vederci presto. Ciao!